Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e come da prassi dopo presentazione Samsung facciamo il punto sui nuovi telefoni presentati da S20 e S20 Ultra passando per S20 Plus precisando che Samsung ha presentato anche Galaxy Z Flip, un nuovo foldable, quindi un telefono pieghevole fatto come il Motorola Razr per intenderci che però costerà qualcosina in meno siamo come sempre sulla pagina di Samsung, io in descrizione vi lascio la prenotazione e i prezzi che forse sono già scontati per Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra precisando che se li prenotate riceverete gratis le Galaxy Buds Plus nuovo modello delle cuffie True Wireless e io ancora utilizzo le Icon X che sono due modelli fa ho ancora sulla scrivania sigillate le Galaxy Buds, quindi vi consiglio comunque, le ho provate anche in precedenza sono ottime cuffie True Wireless e averle in regalo comunque costano 169€, penso sia un buon valore aggiunto detto questo, noi partiamo dalle differenze dei tre modelli e direttamente focalizzandoci poi sull'S20 Ultra che ha uno zoom 100x e io in descrizione e nelle schede vi lascio l'articolo dove c'è il video che mostro effettivamente in tempo reale come funziona questo zoom 100x, quindi la scena in grand'angolo e quanto è possibile ingrandire con un solo tap fare uno zoom comunque di buona qualità nonostante sia ibrido, quindi dategli un'occhiata, appunto c'è l'articolo in descrizione e nelle schede qui c'è una rapida panoramica che adesso approfondiamo con le schede tecniche precise che ci porta a differenze di dimensione, quindi da 6,2 pollici passando per i 6,7 dell'S20 Plus dall'S20, i 6,7 per chi non lo sapesse sono effettivamente la dimensione del Note 10 Plus per esempio e arrivando a 6,9 pollici, quindi ancora più grande per la versione Ultra camere che arrivano a 64 megapixel S20 e S20 Plus e 108 megapixel sull'S20 Ultra zoom quindi 30x nei primi due fino a 100x come ho detto per quanto riguarda il modello migliore batterie da 4000, 4500 e 5000 mAh io guarderei comunque se vi interessano questi telefoni sull'S20 Plus e sull'S20 Ultra appunto che come sapete io prendo sempre le versioni più grandi quindi proprio per una questione anche di autonomia poi preferisco gli schermi più grandi però è anche una questione appunto di batteria e capacità della batteria su cui facciamo un attimo un breve approfondimento adesso che ci arriviamo lato chipset approfondendo le caratteristiche su GSM Arena come sempre i telefoni sono identici dal punto di vista computazionale quindi abbiamo lo stesso tipo di chipset l'Exynos 990 per il nostro mercato, una versione global a 7nm e processo migliorato e lo Snapdragon 865 sul canale arriverà anche la recensione del Galaxy Fold che per chi non lo conoscesse è il primo foldable di Samsung ed è l'unico telefono che è arrivato sul mercato italiano con una soluzione Snapdragon e io vi devo dire che questa soluzione in termini di autonomia anche a parità di autonomia e di capacità della batteria rispetto agli altri doppi di gamma appunto come Note 10 funziona meglio nell'utilizzo che ho fatto tutti i giorni con questo telefono ho riscontrato una migliore autonomia forse è meglio ottimizzato paradossalmente lo Snapdragon rispetto all'Exynos che è una soluzione proprietaria di Samsung è un processore fatto proprio da Samsung un chipset e comunque funziona molto bene l'autonomia è ottima però è un po' paradossale appunto che sullo Snapdragon andiamo meglio che è un prodotto appunto non di Samsung comunque schermo Dynamic AMOLED in ogni versione del telefono come vi ho detto le dimensioni da 6,2 a 6,9 1440 x 3200 pixel in form factor 29 quindi full screen come il Note 10 e risoluzione quindi quad HD estesa miglioria su tutti e tre i modelli schermo a 120 Hz questo significa comunque che mentre lo utilizziamo avremo una migliore sensazione di fluidità per quanto riguarda appunto la frequenza di aggiornamento Android 10, One UI versione 2 128 GB di spazio 8 GB RAM per l'S20 l'S20 Plus arriva a mezzo terabyte e 12 GB di RAM l'S20 Ultra mezzo terabyte e 16 GB di RAM che ad oggi io non so effettivamente a cosa possono servire già 12 sono secondo me ancora di più di quanto possa servire la memoria è espandibile come sempre per quanto riguarda l'utilizzo di una micro SD qui ci sono i dettagli per quanto riguarda il modulo fotografico che da 12 megapixel sui sensori wide può arrivare a 64 a 48 per il teleobiettivo a 108 megapixel per la fotocamera standard quindi quella normale su S20 Ultra fotocamera frontale da 10 megapixel per quanto riguarda S20 e S20 Plus e 40 megapixel che secondo me sono comunque esagerati su S20 Ultra e il resto lo abbiamo visto sensore comunque sotto sensore per le improticità lì sotto lo schermo e le batterie ve le ho fatte vedere prima ricarica super veloce sull'S20 Ultra 45 Watt sulla landing page di Samsung troviamo tutti i riferimenti per quanto riguarda la camera a 108 megapixel e viene fatto focus sull'S20 Ultra chiaramente ed è un po' quello che vi voglio far vedere anche in termini di zoom qui c'è un'animazione appunto abbastanza esplicativa per così dire che ci permette comunque di ingrandire e avere un discreto livello qualitativo anche facendo foto da veramente molto lontano lo vedremo meglio sicuramente in fase di recensione anche durante lo scatto notturno abbiamo fino a 3 volte lo stesso quantitativo di luce secondo quanto detto in fase di presentazione già veniamo da degli ottimi telefoni come S10 e Note 10 che in notturna andavano comunque bene lo avete visto comunque sul mio profilo Instagram e vi lascio subito i link in descrizione comunque chi mi segue ha visto tutte le fotografie man mano mise e a mano libera comunque venivano ottimamente possibilità di girare video in 8K quindi crop possibili e foto appunto gestibili così pesanti grazie al nuovo chipset che ovviamente ha un'elevata potenza di calcolo per quanto riguarda la stabilizzazione abbiamo la presenza chiaramente con l'intelligenza artificiale per migliorare i video che già erano stabilizzati sui modelli precedenti e la modalità scatto singolo che ci permette di avere più fotografie più momenti sulla stessa ripresa video se siete riusciti a vedere l'animazione facendo un video di 10 secondi ci sono diversi momenti e vengono tutti quanti tramite intelligenza artificiale immortalati possiamo poi scegliere dalla galleria qual è quello che secondo noi è più rappresentativo di quello che volevamo appunto immortalare comunque tenere per noi molto importante se vogliamo bloccare determinate azioni che succedono ma rapidamente come può essere la corsa due automobili in corsa o non so il volo di un uccello o un tuffo all'interno di una piscina 5G ovviamente dei modelli S20 Plus e S20 Ultra se non sbaglio gli unici disponibili sul mercato italiano disponibili anche su S20 la variante 5G e integrazioni con Netflix e possibilità di scaricare intere serie tv in pochi secondi grazie a questo tipo di velocità autonomia come detto grazie alla batteria da 4.000 4.500 5.000 e 5.000 e spazio non bluetooth che ha spazio veramente esteso che arriva come vi ho fatto vedere fino a mezzo terabyte per quanto riguarda questi telefoni è tutto vi ho fatto sempre una panoramica fatemi sapere come sempre cosa ne pensate all'interno dei commenti io vi ricordo che comunque in descrizione vi ho messo anche il link all'articolo con il video per vedere direttamente non quello fatto da Samsung uno in presa diretta lo zoom 100x che è molto interessante da vedere perché la qualità effettivamente rimane lasciate un like come sempre se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per dei prossimi e noi ci vediamo appunto al prossimo video